It's beginning to look a lot like Christmas Toys in every store Is the holiday that will be on your own Per molti la vita non è così facile Vieni a donare nel centro Avis più vicino Donare è gratis, ma per tanti è il dono più grande Grazie! Grazie! Avis, aiutaci ad aiutare Campagna cura dell'Avis provinciale di Sassari